ciao a tutti qui con me c'è simone marcomini senior business development southern europe hp aruba ciao simone quali sono oggi le principali minacce che corrono le aziende e quali le soluzioni che voi consigliate per difendersi allora ciao buongiorno a tutti allora come hp aruba networking in realtà ci occupiamo come si conosce di network ci occupiamo di netto da molti anni tanto che gartner ci conosce ci riconosce la leadership almeno da 18 anni per quanto riguarda la parte network e la nostra strategia per quanto riguarda la cyber security parte proprio dalla gestione del network un network sicuro protetto altamente segmentato che porta queste caratteristiche anche nelle nuove tecnologie date dalle nuove acquisizioni quindi tutto ciò che si può tutti i workload che si spostano in ambiente geografico hanno ed ereditano quel tipo di sicurezza che abbiamo basato sul network con la nostra tecnologia sd van e conseguentemente con la nuova acquisizione di axis security anche la tecnologia sse ci permette di poter garantire la sicurezza del dato dalla sua creazione fino al suo trasporto in ambienti geografici quindi grazie a tutti grazie a tutti